Il giovane già grande Luca Donchik, il giovane già grande Questa edizione degli europei di basket ha messo in mostra fino ad ora giovani che grazie alle loro immense qualità balistiche hanno fatto la differenza, esprimendosi in campo come se fossero veterani Uno di questi, è Luca Donchik, stellina della Slovenia che ha impressionato per talento, responsabilità e soprattutto personalità gettata a grandi dosi sul parquet Lo sappiamo tutti, in fondo, che il basket del terzo millennio è profondamente cambiato rispetto alla versione, obbe soleta, del novecento Va di moda il cosiddetto giocatore moderno, cioè colui che al di là della corporatura, è in grado di ricoprire più ruoli, e rendersi utile alla squadra sia lontano che vicino al canestro Proprio Donchik, nelle prime uscite dell'europeo con la Slovenia, ha lasciato intravedere tutto il suo potenziale, poco più che diciottenne, è già in grado di spostare gli equilibri della sua nazionale Sorpresa, ma fino a un certo punto, la nazionale slovena ha chiuso in testa il proprio girone, scavalcando Francia e Grecia, avversarie insidiose, di tutto rispetto, con una certa tradizione cestistica E un'ottima squadra, gioca un bel basket e dà qualità, con Anthony Randolph e soprattutto Goran Dragic, playmaker dei Miami Heat, a garantire punti e tanta leadership Ma l'impatto che ha garantito il fuoriclasse del Real Madrid è stato letteralmente mostruoso. Ha dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che si tratta di uno dei migliori prospetti futuri del panorama cestistico mondiale Scontata la sua presenza al prossimo draft bar, punta con Ferocia ad essere scelto alla prima chiamata. Ha tutte le carte in regola per ambire a questo traguardo. In Slovenia, si è ulteriormente diffusa la Donchik mania Come un motore diesel, Donchik in questa rassegna continentale ha dovuto dapprima carburare, per poi entrare nel vivo della manifestazione e prendersi la scena Un fisico da ala, un tiro da guardia e trame da playmaker puro con una mentalità da giocatore navigato. Uno che dà del tuo alla palla spicchi Nel match inaugurale, quello contro la spigolosa Polonia, ha vissuto una serata piuttosto storta al tiro dal Midrange, 0 su 5, ma non si è perso d'animo ed ha comunque offerto il suo contributo refertando 11 punti, catturando 8 rimbalzi e distribuendo 8 assistenze ai compagni di squadra Il tutto in 31 minuti di gioco. L'esordio si sa, spesso gioca brutti scherzi, ma Luca ha comunque strappato un 7 pieno in pagella Nel secondo atto, problemi al tiro da tre, ma il nativo di Ljubljana, impiegato comunque in campo per 30 minuti, si è reso protagonista di una buona prova svolgendo quel lavoro sporco che spesso lascia ad altri Contro la Finlandia dell'altro fenomeno Lauri Markkanen, ha messo insieme 8 rimbalzi ed 8 assist, risultando essere il fido scudiero ideale per Goran Dragic, scorer principe della squadra Si è consumato invece il look a Don Ciccio nella terza gara del girone, contro la Grecia Il Classe 1999 ha sciorinato una prestazione di gran livello, 22 punti, 3 assist, 5 rimbalzi, strappando mille e più applausi tra i presenti dell'Arto all'Arena di Helsinki Un iradiglio, un rapace a caccia delle carni greche Solide prestazioni anche nella quarta e quinta partita del girone, nella passeggiata di salute contro l'Islanda, cenerentola del torneo, Don Cic ne ha messi a referto 13, 15, e 9 rimbalzi, invece nel big match con la Francia, vinto dagli sloveni, i quali grazie a questo successo hanno chiuso a punteggio pieno il raggruppamento finlandese E' impressionante il carattere che il giocatore del Real Madrid ha messo in campo fino ad ora Anche quando il tir non è entrato, non ha mai perso la fiducia nei suoi mezzi, mettendosi al servizio della squadra, lavorando duramente anche in difesa, servendosi della rapidità di gambe che madre natura gli ha gentilmente concesso Un atteggiamento da cattivo, l'arroganza cestistica di un veterano che rappresenta già l'elite del basket europeo, e che senz'altro sbarcherà negli estate sa stretto giro, rendendosi protagonista anche oltreoceano Dunque, l'enfante prodige e ha alternato mirabolanti giocate in attacco, ad una difesa solida, asfissiante, anche contro giocatori forti, tecnicamente e strutturalmente Chiaro che la Slovenia non sia partita con i favori del pronostico, in quanto ci sono almeno due-tre squadri sulla carta più forti di essa, ma con un Don Cic in formato extra-lusso si può sognare in grande D'altronde, l'enflame realizzato dai Balcanici nella prima fase testimonia la portata della comitiva allenata da Kokosco Vincere non è più un miraggio, Don Cic è pronto ad affilare lascia e scendere in campo, per deliziarci ancora un po', perché ed innanzi alla classe cristallina di un giovane già grande che è solo da alzarsi in piedi, togliersi il cappello ed applaudire, tante tante volte Ciao